Sono oltre dieci gli episodi che l'inchiesta che ha visto impegnata la squadra mobile di Salerno, guidata da Gianni Di Palma e l'arma dei carabinieri, attribuisce a Roberto Junior Bianco e Pietro Milione. Bianco si sarebbe reso responsabile di almeno dieci episodi violenti e sorsivi commessi, alcuni in collaborazione con Pietro Milione ai danni di esercizi commerciali e di privati, nel periodo compreso tra l'agosto e il dicembre 2022. Proprio a dicembre, Bianco venne tratto in arresto in flagranza di reato dai carabinieri della compagnia di Salerno, guidati da Antonio Corvino, dopo aver danneggiato la saracinesca di un panificio. Bianco fu fermato ancora con la pistola illegalmente detenuta, con la quale aveva mandato in frantumi la vetrina di Mulino Urbano a Piazza Malta. Oggi il lavoro della procura di Salerno, guidata da Giuseppe Borrelli, ha consentito di aggiungere a quella flagranza di reato una serie di episodi, che fermano per un bel po' Bianco Junior. Un personaggio giovane, ma con uno spessore criminale inquietante. Tra i vari episodi, l'aggressione con un casco ad un pizzaiolo nel rione Petrosino, il quartiere dove viveva e dove fin da piccolo è stato considerato un boss. Dovrà rispondere dei reati di tentata, estorsione, porto e detenzione illegale di armi, nonché lesioni e minacce aggravate dall'uso delle armi.